Sovra ragazzi e benvenuti a questo gioco E siamo ritornati su questo gioco C'è un signore la che vende sta andando a vendere le banane Iniziamo con Oh fermati Fermati Dammi a mettere secondo i joystick e poi te lo ridò Giuro 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 Signore voglio io le banane No le banane non me le date Dammi le banane Dammi le Ti sto sparando Guarda sto stando a terra 15 banane Buone Mangiatele E con le altre facciamo 16 Eh la 16 lo so dove la trovo Lo posso trovare Ascetta guardate cosa vi faccio vedere Io non vi spoilerò niente Perchè voglio essere una brava persona No 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 Ma devo farti vedere una cosa bella Ecco 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 No no.. Adesso devo fare una cosa brutta Basta della polizie- noooo Nooo no Gausshe noooo N finishing up Non fu**a no No, no na 분ie No m Geschmack materials F*** you mothafaka Mothafaka F*** you F*** up Mothafaka F*** you Mothafaka F*** you Mothafaka No 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 F*** you b***h Mothafaka Adesso fai giocare a me sicuro Perché? Deve esistere che sei il paparincoso Eh, mi piace Non è che forse per Xbox non succede? No non succede Anzi, se è molto grave, non ne fai più di 40 Non si bambina solo il disco, si blocca pure l'exbox Muori, guarda la posizione, vedere Facchiutti, che... No, allora io moccino la gente Solo perché mi sono impappato Non ne hai quei zia, tanto No, perché, scusa, ecco voi la mia sensibilità Mi fai giocare Mi passavo Ma qua stiamo? Dei minuti Dei minuti, ok Eh, se no si impappiava allora, che è impossibile, non è vero che si impappava Solo se non è vero che si impappava Solo se non è vero che si impappava Si impappa Meno uno giocare Meno uno giocare Ma tu fra poco lo tolgo Meno uno Fa giallo il fondamentale Sì, è la Ferrari, ma non ho modificato No, non ho modificato No, non ho modificato Non ho modificato Non può costo, no? Minchia, l'hai superata Un'altra parte modificata Non è modificata, è solo di colore Non è un'altra parte Non è un'altra parte Non è un'altra parte Quella è la mia auto, tamarra Ma devi fermare Andiamo a modificare No, dai, dammi, dai, tieni, tieni Siccome non possiamo fare il trucco Faglio, l'ultimo però No 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 Però quando finisci di modificare Me lo rende a me il joystick Vai forza E poi me lo rende a casa Fa la gialla Amo, diventino rossi Così, così Diventino rossi così Metti il giallo Rossa, che è più fino So già quale mettere Le ruote fanno cagare Anzi, puoi fare un deck di colori bello A fanno che è brutto Allora, mettiamo queste belle Sottamarre Guardate un attimo Ok ragazzi Cambieremo colore Metteremo un colore figo Eh, praticamente Allora Devo mettere sempre un colore giallo Voi non avete capito Ma io ho capito bene Allora, è così Che tutto è nera Mazzica, bella Sempre nera rossa Ma non sarà di questo colore Il secondo, invece Il colore secondario, invece Sarà di questo colore Oh no, qual era allora? Se non era Oh, invece è il contrario Credo, raga Il colore principale Giallo Bello Ma cosa possiamo colorare le ruote Di che colore andrebbero bene? Oh, me hai fatto veramente verde Sì Me fa cagare così Oh, ma c'è due Allora, devo fare così No, 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 no 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 ah giallo facciamo il coloro di Valentino Rossi apparentemente devi fare il colore principale è blu ah che è vero, è blu e Cialà si è vero solamente ci lasciamo adesso, sasmi, snoram snoram cerchioni i cerchioni fallinei è meglio so io quali lettere, bellissimi non sono questi però, no ho sbagliato no sono belli eccoli allora mettiamo questi qui stile anche dietro però dove sta stiletto ma mi lo devi dare a me però allora dove sta, colore, cerchioni neri neri la mai metto dei modificati fa cagare così non so se posso motori, armature armature prima quanto so, ok motori, clacson, fari, target ruote no non posso ma in mente no? no no ma poi esce fuori no, a ruote no, accessori ruote no? ho fatto di colore giallo il fumo quando esce non fa niente buono? sì vediamo com'è, vediamo prima la testo io poi la testito voglio vedere un attimo com'è com'è il motore no dai la cintura no ok è che di mettere la cintura no, la cintura la cosa valentino rossi è primo va sì va pure oh il fumo vuole vedere oh il fumo il fumo giallo bello ovviamente è un'antibucatura come la beve la memo o meno sono andando un attimo a vedere una cosa dai 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 vediamo sta la zentorno questa la zentorno questa la lascio lo sai no? vai ti prego ti prego qua che sarà dietro eh no ti è dai beh ragazzi spero che questo video si conclude spero che questo no no togli ti togli ti casco a meno che poi si toglie il cappello il grumi non ne lo so ci vuole un po' raga no dai che palle oh andiamo a casa a cambiarlo ti sta male così ok raga lo stiamo andando a casa perché così da boss un po' non sta male vabbè ragazzi vi devo tagliare anche una cosa importante praticamente oggi faremo un bordello di video ma proprio un bordello bordello perché noi con queste cose che non stiamo facendo il pomeriggio per colpa della scuola mi scuso tanto per questo oggi faremo un sacco un bordello no è colpa sua non è colpa tua praticamente ora faremo un sacco di video ma proprio una marea tutti di 14 minuti infatti sto parlando per questo motivo perché anche ci vuole un bel po' un chilometro e 10 siamo così arrivati vabbè comunque oggi vi faremo anche vedere no scusa con Michael non abbiamo comprato l'hangar va a dire sì ah ok oggi vorremmo oh e Michael il pieno di tatuaggio vado raga tatuaggio qui con delle vie delle pistole qui dietro qua col tema in fiamma in fiamme qua sul braccio qual'era destro e sinistra veramente tutte e due braccio no il braccio che c'era scritto era il braccio destro quello sinistro dove avevano scritto Michael e Amanda eh no abbraccio sinistro abbraccio sinistro questo qua eh no no questo qua mi so confuso perché abbraccio su ok devi girare qua vader non non diventare come una vader che non gira ma vada ma vada gira ragazzi ormai io mi puoi anche far mi potete anche far partire dall'aeroporto so come dove dove è casa nostra dove è casa mia ovviamente su GTA quindi non ci vuole niente che arrivo in 15 secondi ma salviamo sta moto no no vedi che tengo lo spazio pieno ok però lo cambio io no no è me non ho mai cambiato non l'ho mai cambiato e che me ne frega a me mantieni oh la spero quando mi riesci di cambiare lo gioco io ok ragazzi nello scorso episodio vi vorrei dire come avere la giacchietta con la bandana gli occhiali dovete fare questo prima di tutto dovete andare un attimo a maschera dovete mettere la bandana se non ce l'avete non potete fare la cosa che volete forse desiderare poi andate qui no su questo già e vi comprenderà questo cosa qua con la bandana uscite qua andate su giacche dovete andare e potete mettere tutti gli accessori che volete cappellino e se viene figo sembra tipo un hacker qualcosa del genere oh già a 10 minuti stiamo ok vabbè altri 3 minuti tanto ragazzi non vi preoccupate a 15 si finisce no dobbiamo finire a 14 in poche parole perché a 15 quindi 15 poi si toglie lo togono da youtube abbiamo quasi finito devo andare a cappelli dritti metto quello della stanza picchissima poi orecchini ma non metto quello di diamante ma metto quello di platino che mi ho messo quello dell'ossidiano platino io l'avevo messo l'altra volta ma perché quello dell'ossidiano che non vale niente è bellissimo si vale di 1200 questo qui vale più di tutti a 14 dobbiamo arrivare si siamo quasi arrivati ok guardate ragazzi nel prossimo episodio vi faremo vedere come siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati come come è figo franklin ora ora dobbiamo chiudere il vino un saluto da la schilegge anche se stiamo cambiando ogni volta la ciao ciao